Rapposelli, vogliamo spiegare il senso di questa mozione che ha suscitato polemiche a Pescara. Lei ha precisato, lo ha già fatto nelle ultime ore, che non è una mozione contro l'aborto. È una mozione che invece va in ulteriore aiuto alle donne, cioè quelle donne che si trovano in condizioni economiche talmente tanto negative che purtroppo, tortocollo, nella decisione di portare avanti una gravidanza o interromperla, sono costrette, proprio per la situazione contingente del momento che vivono economicamente disastroso, ad interrompere la gravidanza. Se il Comune, che è un ente, un'istituzione, non vede queste cose e non analizza soprattutto la denatalità che è in essere da tanti anni, ma i dati lo dicono, del 2020 rispetto alle nascite del 2019, rispetto ai report del 2019, rispetto alle nascite del 2018, e molte di queste natalità sono state interrotte per i motivi che ho detto sopra, e allora l'istituzione come fa a non venire incontro e a cercare di sopperire a queste difficoltà enormi che ci sono? È una mozione inutile e ideologica. Ritenere che una donna scelga l'interruzione di gravidanza perché è povera, e quindi, dandogli dei soldi, fare una scelta diversa e cambia idea, è una posizione ideologica che non ha niente a che vedere con la realtà dei fatti e che non prende in considerazione nulla di quello che è il mondo, la vita, la famiglia e la donna. Io credo che se questa amministrazione voglia davvero fare qualcosa a favore della famiglia e delle donne, dovrebbe lavorare ad esempio per aumentare i nidi pubblici, aumentare e dare un sossegno vero alle madri single e al lavoro femminile, lavorare sul congedo parentale, tutto il resto è ideologia. Perché sono posizioni che non giovano a nessuno e che richiamano una visione della donna che in qualche modo vuole limitare e manipolare in modo emotivo, emozionale, economico e ideologico la libertà di autodeterminarsi, che non è dovuta semplicemente a un soldino più o in meno, ma tanti motivi che appartengono alla libera scelta delle donne.